Beata Scidlo, il primo ministro incaricato della Polonia, dopo la vittoria del Partito Diritto e Giustizia nelle elezioni dell'ottobre scorso con il 37,5% dei voti, si completa la conquista istituzionale del Movimento Conservatore. La composizione dell'esecutivo, che giurerà lunedì prossimo, era già stata annunciata nei giorni scorsi dal leader del partito, Jaroslav Kaczynski. Sono consapevole di assumermi un'immensa responsabilità, ma allo stesso tempo credo fermamente che tutti i ministri del mio governo siano consapevoli che il benessere dei cittadini polacchi e dello Stato polacco è al di sopra di ogni cosa. Diritto e Giustizia ha una maggioranza assoluta in Parlamento. Scidlo è la seconda premier donna della Polonia, ma per la prima volta dal crollo del muro di Berlino il potere sembra concentrato nelle mani di un solo uomo, Jaroslav Kaczynski.